E' quel giorno, è quella giornata, oggi si gioca, oggi si gioca una partita molto 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 importante, oggi si gioca una partita che può raccontarci molto del nostro percorso in campionato, in stagione, se in un verso se nell'altro, perché come continuo a dire è una partita decisiva e non decisiva allo stesso tempo. Torno a ripetermi su un concetto che avevo espresso qualche giorno fa, che non ho espresso ieri, infatti qualcuno nella conferenza stampa, che tra l'altro, apro una parentesi, vi ringrazio perché è andata molto molto bene, visto che il video è stato gradito, quindi vi ringrazio per i commenti, per il mi piace, spero che anche questo video possa essere ugualmente apprezzato e dicevo che per la Juve un pareggio non sarebbe positivo, qualcuno non è convinto di quello che vi ho detto, ma vi spiego anche il perché. Io credo che in realtà, perché un ragazzo mi ha fatto un ragionamento corretto, e cioè credo che dopo otto vittorie consecutive per la Juventus possa essere positivo anche un pareggio, sicuramente è meglio che una sconfitta, il pareggio però è più positivo per il Napoli, non è nemmeno negativo per la Juve, sono d'accordo, questo è vero, diventa negativo dal punto di vista, anzi dal fatto che la Juventus comunque diversi jolly in Serie A se li ha già giocati, e quindi se vuole veramente dare il colpo di grazia, anche non proprio dal punto di vista classico, ma quanto più psicologico, perché buttare il Napoli nella condizione di averne perso due nelle ultime tre dopo aver fatto un filotto da imbattuti vuol dire tanto, quindi la Juve se vuole fare quel passettino in avanti, oggi il pareggio non lo può prendere pienamente in considerazione, è ovvio che è un risultato che ci può stare, soprattutto contro questo Napoli, è ovvio che è più facile perdere da questo Napoli piuttosto che vincere, però io ho proprio questa volontà in testa, cercare di dare uno scossone all'intero campionato di Serie A, dare uno scossone psicologico al Napoli, dare uno scossone, una botta di energia, di carica, di grinta a questa squadra, perché? Perché comunque quest'anno abbiamo tolto un tassellino che l'anno scorso era rimasto lì, e cioè vincere uno scontro diretto, c'è successo con l'Inter, dobbiamo dare continuità. L'anno scorso al Maradona abbiamo fatto una partita strana, difficile, perché ci siamo arrivati in un momento veramente complicato la stagione, inizio anno, con dati giocatori via per le nazionali, oggi ci andiamo con degli infortunati, loro comunque sono in un buono stato di forma, psicofisico, e noi possiamo fare la nostra partita, possiamo mettere in difficoltà. Oggi ci giochiamo tanto anche dal punto di vista, tra virgolette, del giudizio da attribuire a Massimiliano Allegri, perché vincere oggi ti permetterebbe di tornare a pensare veramente di competere per lo scudetto, cosa che fino a pochi mesi fa sembrava utopia, cosa che anche oggi, in questo momento, mentre vi parlo, mi sembra utopia, ma è una grossa possibilità per scalare la classifica in maniera veloce, c'è una sorta di trucco, è uno scontro diretto, vale sei punti, tre da una parte e tre dall'altra, c'è un gap di sei. Quindi ragazzi, cerchiamo veramente di portarcela a casa questa vittoria, perché è molto importante. Le formazioni, secondo Romeo Agresti, questa è la Juventus che scenderà in campo, Cesni in porta, Alexandro, Bremer, Danilo, Costice, Meccenni sugli esterni, Rabio Fagioli, Locatelli a centro campo, Di Maria Emilic lì davanti. Meccenni a centro campo, cerchiamo un attimo di analizzare questa scelta. Alternative? Potevano essere Chiesa, che probabilmente Allegri vorrà utilizzare, sfruttare a partita in corso, sulle che poteva giocare in quella porzione, come ha fatto anche con la Cremonese, probabilmente non una grandissima partita in fase difensiva e dopo ci arriviamo, l'ultima alternativa poteva essere Healing a piedi invertito o Costice a piedi invertito per metterci Healing in quella porzione di campo. Quadrado non è ancora pronto. Non sono amante di Meccenni esterno e lo sapete bene, perché non sono assolutamente amante di Meccenni esterno. Non mi piace, come idea, ha maggior ragione del 3-5-2. E non mi piace, ha maggior ragione oggi, che dobbiamo affrontare sulla corsia di sinistra un giocatore come Kvara Skeia, che ha avuto un impatto molto forte sia col Napoli che con la Serie A, col Napoli in generale, perché anche in Europa Kvara ha dimostrato il suo. E quindi sentivo anche il video di Romeo, diceva in tanti non sono convinti di Meccenni quella posizione perché è Meccenni contro Kvara. Ma effettivamente sarà Meccenni contro Kvara? Ho cercato un modo quanto più efficace possibile per rappresentarvi un po' quello che sarà. E quindi ho deciso di preparare una sorta di lavagna. Non l'abbiamo mai vista sul canale, quindi cerchiamo di entrare un attimino nel contesto. Queste sono le due formazioni di Juventus e Napoli a confronto. Juventus 3-5-2 e Napoli con 4-3-3. Che cosa succede? Che Kvara, che va a agire in questa zona di campo, viene contenuto da Danilo e da Meccenni e ovviamente da Fagioli che va ad aiutare. Romeo parlava di triangolo prima del suo video, è assolutamente questo, una sorta di gabbia. Ovviamente poi anche i giocatori del Napoli ci muovono in conseguenza, però l'idea è questa che non è Meccenni contro Kvara. Se dobbiamo mettere giù il campetto, il marcatore diretto di Kvara è Danilo nell'uno contro uno. Quindi Meccenni poi va ad aiutare. È un giocatore più di supporto Meccenni in questo momento per Danilo. È ovvio che, attenzione, Mario Rui è uno di quelli che sale tanto con il pallone. Loro hanno dei terzini comunque che spingono abbastanza e quindi Meccenni dovrà essere un giocatore molto più di contenimento. Dovrà tappare un pochino quel buco che invece potrebbe lasciare un Federico Chiesa. Il vero potrebbe anche offendere allo stesso tempo perché ovviamente loro lasciano spazi, ma questa probabilmente è la strategia del secondo tempo. Quella del primo tempo è più contenitiva. L'abbiamo già visto tante volte, la Juventus nei primi tempi tende a far sfogare l'avversario per poi venire fuori nei secondi tempi dove cambia la strategia, cambia gli interpreti, cambia proprio il modo di approcciare la gara e la Juventus cambia registro, cambia marcia e viene fuori. Quindi probabilmente per quello che è l'idea della partita che mi aspetto, comunque sulla falsa riga di quello che abbiamo visto già in stagione per la Juve, quindi un primo tempo un po' più contenuto, un secondo tempo un po' più giocato, un po' più spinto, un po' più scoperto. In realtà per quanto non sia amante di McKennie esterno in questo momento potrebbe avere senso proprio perché serve una mano in più a Danilo, perché Danilo è molto bravo secondo me negli uno contro uno, un giocatore molto molto bravo a cercare di limitare gli avversari, Magvar è un cliente molto scomodo e magari lui è un giocatore che spinge tanto, quindi ha molto senso. Se dovessimo fare il campino, ancora una volta, noi qua ci vediamo che i giocatori sono tutti presi nell'uno contro uno dei duelli individuali, quindi Fagioli-Zeliski, Rabion-Ghissà che tra l'altro sarà un duello bellissimo, Milik-Ragmani di Maria Kim e quindi viene naturale pensare che Locatelli andrà sullo botca. Sì e no, perché comunque l'abbiamo già visto fare da parte della Juventus, della Juventus-Delegri, cercare di utilizzare il giocatore vertice basso del centrocampo, andare a schermare il portatore di palla, ma solitamente questo avviene sul rinvio dal fondo, dove Locatelli cerca di alzarsi abbastanza sul portatore di palla se la palla viene giocata da dietro. In alternativa, io non credo che verrà utilizzata una sorta di marcatura uomo da parte di Locatelli sullo botca, bensì la Juventus è abituata a giocare con un 3-5-1-1, più che 3-5-2, quindi Milik verrà lasciato in balia, tra virgolette, dei due difensori centrali del Napoli, uno ovviamente un po' più staccato e uno sarà a uomo su Milik. Lobotka, che in questo momento ha la palla, verrà probabilmente schermato da Di Maria, che è il giocatore che Allegri mette sempre la seconda punta sul portatore di palla avversario, ovviamente quando l'azione non parte da dietro. Quindi che cosa succede? Che poi Locatelli è libero di rimanere un po' più ancorato per dare una mano a Bremer, anche magari nella marcatura ad Ossiman, quindi ovviamente qua ci sarà un duello in duale uno contro uno, si seguiranno a seconda dei movimenti che dovranno fare, e Locatelli potrebbe dare una mano. Lo stesso Locatelli potrebbe dare una mano anche qua, perché immaginiamoci Mario e lui che porta palla, ovviamente Zilinski si va a proporre per, Ossiman si va a proporre per, quindi Bremer lo segue, la palla può finire qua e Locatelli può intervenire a fare schermo, oppure Locatelli può spostarsi a seconda del pallone anche sull'esterno, quindi io mi immagino un Locatelli proprio una sorta di volante davanti alla difesa che a seconda di dove si sviluppa l'azione va a dare una mano in fase difensiva ai tre dietro, quindi in questo caso potrebbe essere palla a Kvara, allora Locatelli si mette qua e c'è un nuovo triangolo, non è più Fagioli, ovviamente Fagioli seguirebbe perché il Napoli andrebbe su con i giocatori, andrebbe dare una mano, ma per lasciare sempre questo senso di compattezza della Juventus e cercare di dare superiorità numerica alla difesa, la stessa cosa potrebbe avvenire ovviamente di qua per cercare di limitare anche Politano, quindi il giochino di Locatelli me lo immagino molto di questo tipo e credo che Allegra abbia preparata con Di Maria che vada a schermare Lobotka con Milik molto sacrificato dentro la morsa dei due centrali, ma ovviamente poi l'azione andrebbe a svilupparsi tra il centrocampo con le mezze ali e gli esterni e quindi poi Milik avrebbe la possibilità di andare a tagliare con Di Maria che può venire dentro e Lobotka che lo deve seguire insieme a Kim che ovviamente sulla carta dovrebbe essere il suo marcatore perché Kim gioca sul centro-sinistra, Di Maria è un giocatore che ama a partire da destra, quindi credo che bene o male sia questa l'idea che si è fatto Allegri, questa sia l'idea della partita che si è preparato, Napoli sappiamo come gioca quindi lato nostro tra virgolette può essere un vantaggio perché noi siamo una squadra più difficile, più criptica da decifrare, invece loro hanno uno stile di gioco predefinito ben oliato che funziona sempre, loro magari al massimo possono cambiare qualche interprete possono mettere che ne so, ieri parlava Spalletti di Raspadori a destra al posto di Politano possono magari mettere un centrocampista e meno un uomo in più tra le linee quindi giocare 4-2-3-1 ma bene o male comunque le caratteristiche del Napoli sono e rimangono quelle, quelle della Juve invece sono un po' più differenti a seconda del tipo di partita che vuole fare, rimane una squadra sempre molto prudente la Juventus, rimane una squadra ostica, difficile in questo momento da affrontare ma rimane una squadra che può fare risultato al Maradona, oggi noi possiamo fare risultato pieno, intendo risultato pieno al Maradona, non sarà facile, come ben sapete io mi attendo un pareggio però è ovvio che anche il risultato della sconfitta e il risultato della vittoria rimangono comunque una possibilità, per scoprire che cosa accadrà ci vediamo oggi e questa sera insieme su Twitch per vivere insieme a questo match e poi su YouTube per portare tutte le emozioni del post partita, fatemi sapere un po' le vostre impressioni anche qui sotto nei commenti, dai cazzo forza Juventus Grazie 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 Grazie